Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Impossibile non ricordarsi Nina Mouric agli esordi. La sua è una bellezza diventata famosa in tutto il mondo e come ieri è molto bella anche oggi Ma sapete com'è diventata e com'è cambiata nel tempo? La modella croata oggi è completamente diversa, al punto tale da sembrare quasi un'altra donna secondo alcuni Nina Mouric com'è cambiata.Dagli anni 90 ad oggi Nina Mouric ha subito un cambiamento radicale Scopriamo come appare oggi la ex storica del re dei paparazzi Fabrizio Corona Nina Mouric, com'è cambiata dagli 90 ad oggi.Nina Mouric è una delle celebrità più popolari ed è famosa in Italia e anche all'estero Il suo debutto è avvenuto nei lontani anni 90, quando ha partecipato al concorso di bellezza del Look of the Year che le ha dato molta visibilità e la ha permesso di lavorare con casi di moda molto importanti, ed anche brand famosi di biancheria intima tra cui il celebre Enfiore e Palmer's Nel 1999 viene ingaggiata per diventare protagonista del video musicale del cantante latino Ricky Martin che stava lanciando il suo brano Livin' La vida loca, un pezzo dal ritmo travolgente diventato poi una vera e propria hit Tutte queste collaborazioni hanno consentito alla Mouric di far conoscere la propria bellezza ed il proprio stile in tutto il mondo Così Nina è stata la protagonista delle più importanti copertine di moda e di numerosissime campagne pubblicitarie Ma com'è diventata oggi la famosissima modella? Scopriamo se è uguale a quando era un'aspirante star delle passerelle Come oggi.Nina Mouric è cambiata un po' dai tempi del suo debutto nel mondo dello spettacolo, e questo ha destato in molti il sospetto che si fosse sottoposta ad alcuni interventi di medicina estetica per modificare il naso e anche aumentare il volume delle labbra e degli zigomi In realtà ha smentito lei stessa questi rumori, e in passato ha confessato di aver fatto delle punture di acido ialuronico ma di non aver mai fatto ricorso all'intervento del bisturi Nina successivamente si è accorta di avere un'allergia, che non avrebbe mai potuto immaginare, alle sostanze iniettate non ha più fatto quel tipo di trattamenti sul suo viso La modella resta ancora adesso una delle donne più belle del mondo Il fisico statuario che l'ha resa celebre, i profondi e grandi occhi azzurri da cerbiatto, il portamento sensuale, e i lineamenti ricchi di fascino la rendono un'icona di bellezza femminile intramontabile Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video